15 minuti di guerria tra oltras della Roma e del Napoli con l'autostrada bloccata, un oltras romanista ferito e arrestato per rissa aggravata, 115 supporter romanisti identificati, 80 quelli napoletani e di questi ultimi in quattro che avevano forzato un posto di blocco in auto e che sono stati trovati con sprang di ferro in auto. E questo è il bilancio della giornata di follia all'altezza dell'area di servizio Badia Alpino in direzione nord in A1. Non sono tifosi ma delinquenti, dice il ministro Andrea Abbodi. Sullo sfondo l'ipotesi che le due tifoserie si siano date appuntamento per una sorta di resa dei conti per l'odio che risale alla tragica morte del supporter napoletano Ciro Esposito. Forse la morte di mio figlio non ha insegnato nulla, dice addolorata la madre di Ciro, Antonella Leardi. Io invito alle persone che hanno questa violenza nel cuore a riflettere di quanto è preziosa la vita, che nessuna mamma, che nessuna moglie, che nessuna sorella mai più possa piangersi. La morte di un caro per una partita di pallone. La mia associazione continua ad andare in giro per le scuole, a raccontare la storia di Ciro, una storia assurda, una storia che non doveva mai accadere. Anche il ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, chiede che i responsabili paghino i danni e che non abbiano più accesso agli stadi.